Grazie a tutti. La prestazione di servizi è di correre alla procedura concorsuale, in quanto il suddetto mantato non rientra nella categoria di contratti di appalto di servizi legali, trattandosi di un autonomo contratto d'opera intellettuale. Secondo la normativa comunitaria, direttiva 2004-18-CE, direttiva 92-50-CE in materia di appalti pubblici di servizi, la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti di appalto. Nel caso in cui la prestazione del servizio si fondi su un'altra base, quali leggi o regolamenti, ovvero contratti di lavoro, detta prestazione esula dal campo d'applicazione della presente direttiva. Direttiva 1992-50-CE, traspusa nel decreto legislativo numero 157 del 1995. Il contratto d'appalto è caratterizzato da un quid pluris sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità rispetto al contratto di conferimento dell'incarico legale, che si delinea come contratto d'opera intellettuale.